Un posto al sole Un posto al sole, trame 9 e 13 ottobre, un'amicizia in pericolo Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana, Vittorio è sconvolto. Un posto al sole continua d'appassionare i telespettatori di Rai 3 da oltre 20 anni. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che ci saranno diversi colpi di scena. Max Pelluso continua a mettere i bastoni tra le ruote a Patrizio e Raffaele. Il ragazzo capisce che Asia potrebbe essere il suo asso nella manica per vincere il talent di cucina. Angela e Franco si lasciano. E un addio definitivo? Marina inizia a intravedere il lato più oscuro di Matteo. Nick ha deciso di difendere Grimaldi ma è pieno di dubbi. Beatrice e Susanna si incontrano e riemerge la loro antica rivalità. Marina è molto preoccupata per le condizioni di salute di Matteo e chiede un consulto ad Ornella. Vittorio scopre che Nico difenderà Grimaldi e ne rimane sconvolto, la loro amicizia è in pericolo. Arianna deve riconquistare la fiducia di Silvia dopo aver ammesso di aver gonfiato il business plan per rinnovare il caffè Vulcano. Roberto Ferri si reca nell'albergo in cui lavora Ellen, ufficialmente per affari. Marina decide di fare qualcosa per la salute di Matteo che sta sempre peggio ma all'uomo non la prende affatto bene. Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre, la scoperta di Angela. Le anticipazioni di un posto al sole dal 9 al 13 ottobre svelano che Ugo e Susanna, dopo aver incontrato Luca Grimaldi, cambieranno la strategia difensiva. Come la prenderà Nico? Alice si annoia a Palazzo Palladini e decide di andare a vedere l'albergo dove lavora la mamma. Angela incontra Ciro e intuisce che nasconde qualcosa. Marina e Matteo hanno una violenta discussione a causa delle condizioni di salute dell'uomo che peggiorano di giorno in giorno. Patrizio è disposto a tutto pur di vincere Chef Parade. Guido si trova coinvolto per sbaglio nella festa di pensionamento di Otello. Patrizio cerca di ricucire il rapporto con Asia. Angela scopre la verità sul sabotaggio in palestra e cerca di riavvicinarsi a Franco. Nico ha scelto Susanna ma Beatrice non è ancora pronta ad uscire di scena come ha svelato Luca Turco a Nuovo TV. Nella realtà Luca Turco è fidanzato con Giorgia Gianetiempo, l'attrice che in un posto al sole veste i panni di Rossella. Dopo il doloroso addio cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole? L'appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20.40 circa su Rai 3. Ciao!